Non si placano le polemiche sulla sanità, un comparto che da solo assorbe la metà del bilancio regionale della Sardegna. Le opposizioni continuano il pressing sulla giunta regionale affinché spieghi in consiglio cosa sta accadendo sia sul fronte della mancata nomina del super manager dell'azienda sanitaria unica regionale ma anche sulla proroga per altri 45 giorni dei commissari straordinari delle Asel. Un provvedimento quest'ultimo che i riformatori e Forza Italia hanno definito illegittimo e di cui chiedono conto all'esecutivo. Il centro-sinistra dal canto suo ha deciso di procedere per la propria strada incurante dei rilievi avanzati in questi giorni. Considera il termine del 31 agosto per la nomina del super manager come una data indicativa, ordinatoria non perentoria per questo dopo i carmonosi contrasti suscitati dalla scelta di Francesco Zavattaro ha deciso di ripartire da capo rimettendo in gioco tutti i candidati. Una scelta che molti osservatori prevedono venga effettuata dopo il congresso del PD che tra qualche settimana dovrebbe disegnare il nuovo segretario regionale. La ricerca ai nuovi equilibri interni al PD avrebbe portato all'impassa attuale anche perché senza la nomina del direttore generale non può essere avviata la riforma che porterà gradualmente all'eliminazione delle 8 Asel e all'implementazione dell'azienda per la tutela della salute. Una riforma pensata dalla Giunta per razionalizzare i costi ed eliminare gli sprechi dando efficienza ad un sistema sanitario, questo per garantire servizi di qualità ai cittadini. Ma per ora lo scontro politico ha avuto il sopravvento con tanti saluti alla priorità di avere una nuova governance per la sanità sarda.